Lusso! Voglio sapere chi è stato! Vogliamo sapere chi è stato! Maresciallo! Vieni qui! Che è successo? In centro del mio discorso in piazza qualcuno ha fatto un grosso rumore con la bocca Ma no! Rumore con la bocca! Con la bocca! Ma chi adesso in questo paese si dovessi fare il rumore con la bocca? Non capite maresciallo! E' stata fatta una pernacchia! Con la bocca! Io non ho sentito niente! Avete sentito qualche cosa voi altri? No maresciallo! Dite la verità! Avete sentito qualche cosa? Maresciallo! Maresciallo! Voglio sapere! Ma non avevo sentito niente! Nessuno ha sentito niente? Io l'ho sentito bene! Certo! Capito? Come faccio a capire il tedesco, signor Tenente? Il Tenente dice che se non si trova il colpevole metterà il paese a ferro e fuoco! Un momento signor Tenente! Calma! Abbia pazienza! Adesso avremo un'inchiesta! Faremo delle indagini! Ci sono qua io! Sono maresciallo! Adesso che maresciallo sono? Dove? Bisognerebbe stabilire i connotati di queste pernacchie! Come si fa? Ci sono le pernacchie acute, roboande, lunghe, corte, medie! Ci sono anche le medie alle volte! Adesso vediamo un po'... Basilio! Vieni qua subito! Fai una pernacchia altamente! Come mi fate? Per stabilire i connotati della pernacchia, no? Come si fa? Vediamo un modello! Avanti! Fai una pernacchia! Benissimo! Benissimo! Questa non ossa! Si vergogna! Ha paura ecco! Lo autorizzi! Autorizzo! Su! Fai la pernacchia! No! Forza! Arraggio! Che è una pernacchia questa? Questa è una fedecchia! Più forte! Su! A che punto gliel'hanno fatta? Al centro del discorso! Vorrebbe ripetere le parole così si crea l'atmosfera? Senz'altro! Assicurata del volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer! Dai! Così? No! Porca miseria è una cosa difficile sa! È una cosa difficile! Postino! Vieni avanti! Qua è una pernacchia altamente! Ma io non so... Non cominciamo a fare i sabotatori! Non sabotiamo! Perbacchio se non ne schiaffa qualcuno dentro! Va bene! Ecco ripeto le parole scusi! Al genio militare del nostro Führer! Così? No! Nemmeno così! Signor Tenente lo ricordo benissimo! La faccio io! Lei no! Senz'altro! Senz'altro! Un momento! Signor Tenente! Ascolti! Guardi un po' se si può giusto assomiglia a questa! Signor Tenente! Sì! Siamo a cavallo! Ecco così! Siamo a cavallo! Individuata la pernacchia!